Buongiorno a tutti, benvenuti, primo appuntamento con l'informazione, buona domenica mattina insieme a Udinese TV con la nostra rassegna stampa, come sempre è una mezz'ora per scoprire i giornali insieme per sfogliarli, per leggere per primi le notizie insieme a voi. Allora cominciamo con i titoli nazionali, con le prime pagine di quest'oggi, in primo piano il Quirinale, con la rinuncia di Silvio Berlusconi, che è in prima pagina su tutti i giornali, deluso Berlusconi, non mi candido, doveva sciogliere la riserva sui numeri, scontro nel centro-destra, Casini, nome coperto, Letta dice tutto è più chiaro, ora un profilo sopra le parti, diserta il vertice Berlusconi, che poi chiede anche che Draghi rimanga premier, quindi che non sia lui la persona designata per il Quirinale. Meloni però dice a questo punto niente veti, Salvini prepara una rosa di nomi, poi anche gli approfondimenti, i dettagli di questa vicenda, il rammarico del Cavaliere lo sognavo da piccolo, scrive Tommaso Labate, è finito un sogno, poi ostacoli e possibili sorprese, invece è il retroscena di Francesco Verderami. Non è solo politica, scrive Sabino Cassese nel suo editoriale, e poi ancora si ritorna invece alla scuola e alla situazione del Covid, dati preoccupanti, le due itali e della scuola, quanti danni ai ragazzi del sud qui nella spalla, e poi invece in taglio più basso, terapie intensive, secondo i numeri, i Novax rischiano 39 volte di più, i reinfettati sono già 108 mila, e poi anche gli esseri con la crisi tra Russia e Ucraina, allarmi, bombe e paura, la psicoguerra di Putin. In centropagina ho la leucemia, la combatto con il dono di mia sorella, l'annuncio di Baricco che si avvia ad un intervento di trapianto, si sono messi in testa di guarirmi, dice lo scrittore. L'amico Culicchia dice un gesto di coraggio il suo. In taglio più basso, poi una manovra contro Ratzinger, ecco perché la firma di Aldo Cazzullo, si parla di questa indagine che riguarda la Germania e che indirettamente riguarda anche lui, in quanto era arcivescovo in Germania, prima di diventare Papa, avrebbe celato dei casi di pedofilia. In taglio più alto invece un'altra vittoria per Sofia Goggia, che vince anche a Cortina, regina delle nevi, scrive il Corriere. Sesto sigillo per lei. Il talent di Rai 1, da Spalla di Milo al trionfo di The Voice, era nel mio destino. Qui abbiamo concluso l'analisi del Corriere della Sera. Vediamo la Repubblica come titola la rinuncia di Silvio Berlusconi, scontro a destra su Draghi, si legge Berlusconi ritira la candidatura per motivi di salute, diserta il vertice con gli alleati, in una nota scrive il Premier Resti. Salvini riaccoglie l'assist, faremo un nome di schieramento, ma Meloni si smarca, nessun veto sul Presidente del Consiglio. Intanto il PD chiede alla Lega, dice alla Lega che su Casini sarebbe possibile una convergenza bi-partisan. L'Italia è in bilico e adesso la matassa è più ingarbugliata, i titoli degli articoli in merito a questo tema. Per la morte di Lorenzo, il ragazzo di Castions che ha perso la vita all'Auzzacco, c'è un primo indagato, è il proprietario dell'azienda in cui lavorava lo stagista di Udine, ucciso da una trave in fabbrica. E poi nella spalla gli esteri, il piano di Putin, a Kiev un leader fantoccio, a Bruxelles prepara sanzioni a Mosca senza precedenti, e poi nel Mediterraneo, navi russe pronte a sfidare la Nato, Biden al Qatar, più gas all'Europa in caso di guerra. E poi in taglio più basso invece il post di Baricco dall'ospedale Ola Leucemia e Gassman e Mastroianni e l'arte di invecchiare, la firma di Eugenio Scalfari. Andiamo anche sulla stampa, Berlusconi si ritira, caos sul Quirinale, a questo punto il Cavaliere ho i numeri, ma lascio per senso di responsabilità, PD e 5 Stelle, adesso ci vuole un nome, Super Partes, rispunta di nuovo, il Mattarella bis si legge nel commento, anche se il Presidente ha smentito più e più volte l'ipotesi di potersi ricandegliare. Il reportage di centropagina invece a Kandahar in Afghanistan, dove l'inverno sta mietendo molte vittime e dove le persone, soprattutto i bambini, stanno soffrendo il freddo e la fame. Poi ancora, in retroscena sulla politica italiana, il centrodestra implode tra i fantasmi di Arcore, Letta Conte fumata nera ai leader disuniti alla meta, Casini rifiuta Palazzo Chigi, Draghi teme il fuoco amico. Ecco qua invece in taglio più basso, si torna sulla morte, sul lavoro del ragazzo di Castions, la favola nera di Lorenzo, lo Stato rimane a guardare, scrive Luigi Manconi. Non ho figli, ma combatto per le adozioni ai singoli. La riflessione sulla maternità che da qualche giorno c'è sulla stampa, con voci che raccontano la propria esperienza di maternità o meno, Veronica Pivetti firma questo pezzo. Poi invece nell'economia, lo spread e la misura del nuovo rischio Italia, Bernabè, l'inflazione è destinata a durare la prima della stampa che poi racconta anche dell'annuncio di Baricco. Ho la leucemia, ma torno presto, dice lui. Poi andiamo a vedere anche il sole 24 ore. La casa perde sull'inflazione. In cinque anni i rendimenti a meno 6,1%. Solo a Milano e Torino l'investimento immobiliare ha battuto il costo della vita dopo la corsa del 2021, ora mercato più stabile, male le zone delle periferie. La corsa delle big tech per il metaverso, si legge, poi in taglio più basso invece il caro gas taglia la crescita, riviste le stime con un calo dello 0,8%, pesano la corsa dei prezzi, la scarsità dell'offerta, la riduzione dei margini ai trasporti aiuti per 110 milioni. Poi nella spalla, vedete, Berlusconi rinuncia, Madraghi Premier fino a fine legislatura, dice l'ex presidente, il no di Fratelli d'Italia ha questa ipotesi. Corinale Palazzo Chigi a questo punto c'è una doppia trattativa. tutte le ipotesi e le conseguenze anche della divisione nel centro-destra. Poi invece in taglio più alto, anche a tu per tu con Anna Tavano, la finanza è diventata meno creativa e innovativa, ma più sostenibile di 25 anni fa, dice la manager. Spostiamoci adesso anche sulle altre testate di quest'oggi nazionali, poi andiamo sul gazzettino e sui nostri quotidiani. Onore a Berlusconi, scrive Libero, il Cavaliere molla, Silvio si ritira per evitare lacerazioni, Draghi resti a Palazzo Chigi per finire l'opera, ma il Premier ancora in corsa, Casini è il rivale più temibile. Poi si torna anche sui fatti della Lombardia, Caso Camici, Fontana verso l'archiviazione, certificati a pioggia, così 19 mila medici evitano di vaccinarsi e un chirurgo Novax è morto. Dieci, cento, mille laboratori pericolosi, come a Wuhan. Allarmi inascoltati, questa è la prima di Libero. Vediamo anche il giornale, che titola La lezione di Berlusconi, Rinuncio per il bene dell'Italia, il Cavaliere ragiona da statista, al Paese serve unità, Draghi deve restare Premier, ma nel centro-destra è tensione con Fratelli d'Italia che spinge per le elezioni. In aula c'erano i voti per eleggermi, ha detto Berlusconi, intanto si salda il fronte contro Super Mario. Caro Bollette, bomba sulle pilla, allarme di Confindustria, l'energia si mangerà lo 0,8%, che è quello che c'era anche sulla prima del Sole 24 Ore, o la leucemia, baricco shock, l'annuncio social che spaventa. E poi ancora, inaugurato l'anno giudiziario, c'è una toga a Milano, danni alla giustizia, dai PM, politicizzate, operazioni rinviate, così proteggiamo i fragili, e i Novax, sempre la prima del giornale. La verità, morti Covid, ricoveri, vaccini, i numeri italiani non tornano, questa è la prima di quest'oggi, basta con le sparate delle Virostar, dateci le cifre certe, il ministro rompe il fronte del governo, basta Green Pass, torni la normalità, dice Garavaglia. E poi in centro pagina, Berlusconi molla, alta Draghi, avanza Casini. Il fatto quotidiano invece, in prima pagina, la buccia del banana, così si prende il ritiro, di Silvio Berlusconi, dall'ipotesi Quirinale, Berlusconi rinuncia, è con leghe fratelli d'Italia, Zoppa Draghi, no al Quirinale, domani si vota, Salvini dice, faremo i nomi, Conte accordiamoci, su uno di alto profilo, per il premier restano, i due eletta, Giorgetti e Toti, poi la Cartabia, giorno nero, tutti contro, le sue riforme, dice, il fatto quotidiano, sul ministro della giustizia, la lista è d'attesa, le regioni non presentano i piani, effetto Covid, il 51,1, il termine, scusate, il 31,1, il termine per i rientri, ben 6 miliardi di prestazioni, non erogate nel 2020, per il Covid. Adesso invece, andiamo sul manifesto, anche qua, si parla, della rinuncia di Silvio Berlusconi, con la foto, e la didascalia, si pari, o Berlusconi getta la spugna, avevo i numeri, ma vanno evitate lacerazioni, al vertice con gli alleati, non si presenta nemmeno su Zoom, quanto a Draghi, resti a Palazzo Chigi, fino alla fine della legislatura, a destra riparte lo scontro, atteso il vertice, Letta, Salvini, e poi, si ritorna a parlare, degli infortuni sul lavoro, dove muoiono, ragazzi e anziani, dopo il dramma, dell'Udinese, altri due morti, a Torino e Roma, entrambi sessantenni, si legge ancora, e poi invece, in taglio più basso, in Cile, governo Boric, donne, climatologi e comunisti, migranti, mediterranea, lo sbarco è diviso, adesso invece, andiamo sul gazzettino, pagina nazionale, Berlusconi non scala il colle, l'apertura, passo indietro, del leader di Forza Italia, che stoppa Draghi, resti premier, tensioni, nel centro-destra, lo schiaffo agli alleati, il cavaliere, diserta il summit, tamponi gratis in farmacia, a fine quarantena, in Veneto, certificati di guarigione, prenotazione attraverso un nuovo portale, anziani o non vaccinati, ecco, chi ancora muore, per il covid, Veneto Banca, ringa di otto ore, non era a consoli, il manovratore, poi Stellantis, Selex Fiat, punta su altri paesi, a Padova, scopritore di talenti, l'ultimo triplice fischio, per Di Marzio, morto durante lo stage, indagato il datore di lavoro, della dita di Lauzacco, dove era impiegato, il giovane, per il tirocinio, super gol, già più forte degli errori, un sogno, vincere così, Sofia dei Miracoli, trionfa a Cortina, e poi invece, in taglio più alto, il Venezia, che sfiora l'impresa San Siro, ma Gieco segna il 2 a 1, al novantesimo, l'Udinese non tira mai una porta, ma porta a casa, un pareggio 0 a 0, contro il Genoa, dopo anche ascolteremo, la voce del tecnico, per spiegare quello che è successo, andiamo a vedere, la prima del gazzettino, dedicata alla pagina, del Friuli, con la nostra regione, in apertura di nuovo, si ritorna sulla vicenda, del giovane, morto a Lauzacco, scuola lavoro sotto accusa, i presidi friulani dicono, il modello non c'entra, è stato un caso estremo, nostro figlio, buono oltremisura, Castions, è un paese sotto shock, dopo la seconda morte, di un giovanissimo, nel giro di pochi giorni, allora sentiamo, che quali sono le novità, in merito a questa vicenda, nel nostro servizio. è stata posta immediatamente sotto sequestro, l'attrezzatura con la quale stava lavorando Lorenzo Parelli, il giovane di 18 anni, morto ieri pomeriggio, mentre concludeva alcune lavorazioni di carpenteria metallica, alla Burimec di Lauzacco, speterà ora alla procura di Udine, chiarire esattamente l'accaduto, ed eventuali responsabilità, per consentire lo svolgimento, di tutte le attività di accertamento, irripetibili, nelle forme garantite dalla legge, è stato aperto un fascicolo, per l'ipotesi di omicidio colposo, a carico del legale rappresentante della ditta, dove il giovane Lorenzo, che frequentava il quarto anno, del corso di meccanica industriale, dell'Istituto Bearsi, stava effettuando un periodo, di alternanza scuola-lavoro, era il suo ultimo giorno, lunedì sarebbe rientrato al centro, per proseguire il percorso di formazione, la morte di un ragazzo di 18 anni, durante un'esperienza di stage, provoca profondo dolore, ha dichiarato il Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, il tirocinio deve essere un'esperienza di vita, per l'Unione degli studenti, quanto successo è inaccettabile, ma il lutto non basta, proviamo molta rabbia, si legge nella nota dell'Unione degli studenti, da anni segnaliamo al Ministro, una situazione inaccettabile, ed insicurezza, ma non siamo mai stati ascoltati seriamente, serve uno statuto, che tuteli i reali obiettivi formativi, degli studenti impegnati nei percorsi PCTO, non si può considerare didattica, conclude la nota, ciò che sfrutta, ferisce e uccide. Intanto la piccola comunità di Castions di strada, dove risiede la famiglia Parelli, si è chiusa nel dolore, gli abitanti si sono stretti nel riservo, è soltanto il momento di testimoniare affetto e vicinanza al padre Dino, responsabile commerciale di una compagnia ferroviaria, e alla madre Maria Elena Dentesano, direttrice di una scuola per l'infanzia, oltre che alla sorella Valentina di qualche anno più grande. Una famiglia distrutta dal dolore, come la famiglia Codarini, che oggi ha dato l'ultimo saluto a Federico, 16 anni, morto durante un incidente con la moto da cross. Abbiamo finito le lacrime, ha detto il sindaco Ivan Petrucco, dopo il doppio lutto che ha colpito il paese. Ritorniamo sulla prima del Gazzettino, con il punto sulla situazione Covid in regione, sanitarie decimati, vaccinazioni in crisi, negli ultimi due giorni, 200 nuovi casi tra medici e infermieri in Friuli, difficile trovare i volontari per coprire i turni, la situazione è effettivamente molto, molto difficile da gestire. Passa automatico per 1200 guariti, nelle prime 24 ore dal Ministero, la procedura di svincolo dei guariti è partita venerdì pomeriggio, ha riguardato coloro che sono risultati negativi ai test compiuti nel giorno precedente, nella sola prima giornata di avvio del nuovo sistema sono stati 1200 i certificati di guarigione inviati automaticamente alle aziende sanitarie riguardanti i cittadini residenti in regione. Poi ancora la cronaca, arrestati in Spagna e in Senegal, due ricercati e poi Udine e Cividale, elettrificazione e barriere eliminate con 42 milioni di euro. Ascensori mai inaugurati in stazione a Udine, rete ferroviaria italiana si scusa. L'udinese soffre contro un Genoa arrembante, 0 a 0 risultato finale, poco calcio, molti calci, basta un punto e poi ancora in taglio più alto, invece un mistero nel cuore di Udine, nel romanzo d'esordio di Pellizzari, gullotta buffa e finocchiaro nel teatro rinnovato di Codroipo, troppi infortuni sul lavoro, l'allarme anche delle procure in occasione dell'inaugurazione e dell'anno giudiziario. Sfogliamo allora anche qualche pagina del Gazzettino, sempre nelle pagine interne, sanitari decimati dai contagi, in crisi, gli hub vaccinali, certificato verde bloccato nonostante la terza dose, si sospetta la falla nel sistema. Poi andiamo a vedere ancora, 1200 i pass automatici scaricati per i guariti, primo giorno di funzionamento del processo digitale, il documento arriva direttamente dal Ministero e si parla anche della possibilità di fare dei tamponi gratuiti in farmacia per uscire dalla quarantena. Le procure, numeri inaccettabili, il PG Dario Groman lancia l'allarme, troppe morti e insicurezza sui luoghi di lavoro, dice il Procuratore Generale, all'inaugurazione dell'anno giudiziario, denuncia anche il crescente disagio giovanile, spiegando quali sono i numeri e dando un'interpretazione dei numeri relativi ai processi e ai casi nell'inaugurazione dell'anno giudiziario, come di consueto, a Trieste. E per quel che riguarda il personale, è sempre alto il grido d'allarme, ormai da anni il personale invecchia e in più adesso crescono anche le assenze per malattia. La beffa degli ascensori della stazione mai entrati in funzione, i lavori iniziati a gennaio del 2020 dovevano durare sei mesi, dopo due anni gli elevatori sono quasi pronti, però è tutto fermo. Rete Ferroviaria Italiana si scusa con i passeggeri per il disagio, la ditta incaricata, non ha completato le lavorazioni e sta già pagando le penali, elettrificazione della linea e eliminazione dei passaggi a livello sulla Udine Cividale. Si continua a parlare di collegamenti ferroviari ormai da qualche giorno. Andiamo a vedere anche il messaggero, questa volta a pagina di Pordenone, con l'apertura dedicata al caso di Lauzacco, la famiglia di Lorenzo dice un dolore insopportabile, la madre era cauto con quelle macchine, il suo obiettivo era il diploma, non faremo sconti, intanto parte l'inchiesta omicidio colposo. Andiamo a vedere anche la pagina relativa al piccolo di Trieste, poi torniamo su quella di Udine, vaccinati in ripresa, in una settimana oltre 115 mila dosi. Nel primo giorno inviati già 1200 sms, falsari del Green Pass con le tessere degli amici, via ai controlli. In taglio alto la rinuncia di Berlusconi, avevo i numeri ma draghi resti premier, Casini dice no a Palazzo Chigi, il premier teme i veti di PD e Movimento 5 Stelle, e poi la grande fuga degli ebrei da Trieste a Shanghai. Poi si torna nella cronaca anche al caso di Liliana Resinovic, le telecamere l'hanno ripresa il giorno della scomparsa, anno giudiziario, più disagio giovanile e infortuni sul lavoro. Torniamo adesso alla prima del messaggero, che anche nella pagina di Udine ovviamente mette il volto del giovane scomparso un paio di giorni fa, inchiesta per omicidio colposo, l'apertura, sequestrate le carte dello stage. Dopo l'infortunio in cui è morto Lorenzo Parelli, la procura indaga il legale rappresentante di Burimec. Sono in corso gli approfondimenti per evidenziare eventuali responsabilità a carico di altre figure aziendali. Il medico legale ha già effettuato un primo esame e con ogni probabilità nei prossimi giorni sarà disposta l'autopsia. L'imprenditore dell'acciaio Pietro Schneider nel 2017 era stato coinvolto in un'inchiesta della GDF, aveva poi patteggiato. Questa è l'apertura di oggi con alcune foto, alcuni scatti della vita del giovane che ha perso la vita durante l'ultimo giorno di stage. Il dolore della madre era sereno e cauto con quelle macchine, non faremo sconti, parla la madre dei progetti di Lorenzo che aveva, era un ragazzo allegro, pieno di idee e voleva diplomarsi. Questo è l'approfondimento delle prime due pagine di oggi. Alternanza scuola-lavoro per 4.000 giovani. Il tutor è obbligatorio e la regione finanzia il progetto partito nel 2018 con 25 milioni di euro. L'ultimo anno di corso prevede il 50% di ore da impiegare negli stage aziendali. I ragazzi nelle fabbriche devono avere una persona che li segue passo dopo passo, spiega il direttore generale delle Friuli Venezia Giulia, dello IAL perché appunto anche per questo tipo di istituto di formazione sono previsti questi corsi di alternanza. Lo studente è tutelato come lavoratore sicurezza cruciale per chi è più vulnerabile. Il gius lavorista Vito Di Trapani dice le norme sono chiare e severe per Zanor necessaria la sensibilizzazione già in tenera età. Poi andiamo a vedere anche le altre pagine sempre relative a questa vicenda con il parere dell'assessore regionale Rosolenne che dice istituto e azienda seri ma nessuno va assolto sui temi della sicurezza. Serve qualche correttivo il commento di Confindustria Alto Adriatico a Grusti la CISLE uno schiaffo intollerabile durissimo il comunicato ieri dei sindacati relativi a questa a questa vicenda. Andiamo a vedere anche la pagina invece relativa all'epidemia in regione oltre 115.000 vaccini nell'ultima settimana 74% in più di terze dosi l'accelerata della campagna ci fa risalire dalla coda della classifica nazionale per la prima volta risultano aver cominciato l'immunizzazione più o meno 19.000 cittadini 19.100 e poi i 1.200 certificati di guaragione intanto in quarantena le persone salgono a 60.000 solo a inizio gennaio erano davvero molte di meno qualche migliaio i falsari del Green Pass con le tessere degli amici in farmacia da positivi controlli dei carabinieri ancora nessun illecito verificato da parte degli inquirenti non trova riscontro l'ipotesi dei coinvolgimenti di medici Novax le identità sarebbero sicure secondo il presidente di Federfarma Luca Degrassi è venuta a mancare una verifica pubblica più lenta e faticosa ma che garantiva l'assoluto rispetto delle regole il prefetto Bardè i controlli stanno evidenziando un buon livello di rispetto delle misure anti-covid questo è il prefetto di Trieste annunziato Bardè e poi il Green Pass della discordia spaventa i pensionati Novax che per andare a ritirare la pensione devono per l'appunto avere anche il Green Pass base andiamo a vedere anche la prima di Udine poi ci concentriamo invece sullo sport in città nuovo picco di positivi sono 1779 senza Green Pass clienti dipendenti è un responsabile chiusa la Ciacarade torniamo il 27 in piazza San Giacomo Novax organizzano un brindisi di protesta chiusa quindi la conosciuta osteria del centro udinese poi i volontari puliscono la città raccolti sacchi pieni di rifiuti siringhe e lattine e sempre per la pagina di Udine uffici giudiziari sotto organico manca un impiegato su tre spostiamoci adesso sulla pagina relativa allo sport andiamo a vedere a chiudere la nostra rassegna con una veloce sfogliata delle pagine sportive in particolare quelle dell'udinese zero tiri verso la porta delle Genova all'udinese fa un punto da record si legge sul messaggero veneto che poi anche spiega il grande apporto di Silvestri che poi va dalla sostanza quello che conta essere tornati a casa con un pari e poi viene anche a spiegare le sue parate difficili Silvestri Becao fanno da muraglia Deulofeo irritante non ne azzecca una dice il messaggero veneto andiamo a vedere anche il gazzettino con la pagina relativa allo sport ecco vediamo cosa dice della pagina dell'udinese tanta corsa e poco calcio il brasiliano Becao prova a sorridere questo punto può regalarci morale ma tra i pali Silvestri merita applausi Perez regala sostanza Molina invece non riesce a spingere ammolizione pesante per Deulofeo Neutink due errori che avrebbero potuto costare molto cari retto l'assalto la sosta arriva al momento giusto dice il tecnico Cioffi allora andiamo a sentire le sue parole a commento della gara di ieri guardiamo il bicchiere il famoso bicchiere mezzo vuoto perché è stata una bruttissima partita per il calcio puro ma è mezzo pieno per l'efficacia del punto conquistato che in questo momento però è l'aspetto preponderante forse da considerare Sì ti ringrazio hai riportato una mia citazione però il bicchiere è pieno è pieno perché se è vero che siamo stati brutti sporchi poco poco efficaci è altrettanto vero che i ragazzi hanno messo in campo dopo settimane surreali una grande volontà un grande carattere una grande voglia di portare a casa il risultato la partita che ne è venuta fuori quindi possiamo dire che è un giusto contrappeso tra le difficoltà che sono andato di fatto avute agli utilizzi nelle passate settimane e anche se vogliamo però il surplus di grinta e energia di intensità del Genoa dovuto anche al cambio allenatore era una difficoltà in più trovarsi un nuovo tecnico abbiamo trovato una squadra che col cambio allenatore una squadra che non è stata penalizzata dal momento dal presente c'è tutto il dramma covid e questo senza scuse senza alibi con l'atteggiamento giusto abbiamo preso il massimo della nostra situazione attuale per chiarire anche i nostri microfoni Udoge tutti noi abbiamo pensato magari al classico fastidio riscaldamento invece ci raccontava che ha avuto un giramento di testa poi però è entrato a gara in corso quindi stiamo tranquilli tutto è entrato bene è rientrato il ragazzo viene da 90 120 è un muscolare quindi fa fatica incredibile a recuperare è entrato Soppi Brandon ha fatto una bella partita di atteggiamento di mentalità siamo stati belli no siamo stati spumeggianti no abbiamo fatto tir in porta no abbiamo portato a punti e questa è la cosa importante l'ultima gradualmente seppur con pochissimi allenamenti si sta ricomponendo la rosa e penso che queste due settimane saranno provvidenziali in tal senso anche per ricondizionare tutti i ragazzi sono stati fermi oggi abbiamo rivisto anche Deolofeo e Molina chiedo anche qualcosa sulla loro partita e anche sui giocatori che sono subentrati nel finale da Success allo stesso Udoge stiamo riavviendo indietro i giocatori alla spicciolata aspettiamo a Gloria queste due settimane per cominciare a lavorare a rimettere dentro i concetti che stavamo portando avanti ci fanno bene ci fa bene staccare due giorni ci fa bene ritornare a riassacurare la fatica il gruppo la squadra l'allenamento queste le parole quindi di Cioffi che pur dimostrando una consapevolezza riguardo allo spettacolo offerto ieri ha voluto rimarcare comunque l'atteggiamento dei suoi e questa è la gazzetta Blessin non basta al Genova il nuovo allenatore di Rosso Blu è solo pari con l'Udinese è più aggressiva la squadra di Genova con il nuovo allenatore ma il gol però non arriva la vittoria manca da 20 partitei e poi anche i singoli destro non coglie l'attimo Beto è un fantasma giornata storta un po' per tutti ieri a Genova con uno 0 a 0 che quindi sta a significare chiaramente che non ci sono state grandissime emozioni e questa è la prima della gazzetta di quest'oggi che titola a sua altezza Dzeko che ha dato la vittoria ai suoi al novantesimo con un colpo di testa risolve al novantesimo una partita complicata anche per la capolista in casa contro il Venezia decimato dal covid pareggio di Barella dopo il vantaggio di Henry domani vertice con Zhang per i rinforzi Milan-Juve invece vale oro e qui Ibra e Dybala la partitissima alle 20.45 il diavolo per inseguire il sogno scudetto la signora può entrare in zona Champions poi anche nella spalla le altre partite il Napoli cerca il gol in maschera dopo due mesi Osimè contro la Salernitana sarà titolare la tentazione di Mancini quella di riportare Balotelli in azzurro che potrebbe aggregarsi allo stage che sta per cominciare il calcio poi piange Gianni Di Marzio Goggia super vince a Cortina il successo più bello anche la grande vittoria di ieri della sciatrice Sofia Goggia noi ci fermiamo qui con questa rassegna stampa ritorniamo a mezzogiorno con il nostro telegiornale poi nel pomeriggio come sempre però sono tante le dirette quest'oggi con la gara alle 15 fra Udinese e Venezia Under 17 e poi questa sera alle 21 come sempre la nostra diretta con gli approfondimenti del turno di Serie A con tutto quello che riguarda il mercato la situazione nel torneo alle 21 con Paolo Bargigia e i suoi ospiti l'altra domenica io vi ringrazio per averci seguito vi auguro una buona domenica a nostra compagnia e vi lascio alle previsioni del tempo Amici di Udinese TV bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per questa domenica che nel complesso sarà davvero una bella giornata di sole cielo sereno poco nuvoloso dappertutto temperature diurne anche accettabili arriveremo a toccare localmente e superare i 10 gradi ma farà freddo di notte a primo mattino andiamo a vedere più nel dettaglio Udine e Pordenone con temperature minime sotto zero come vedete massime però piacevoli come vi ripeto 10-11 gradi nel primo pomeriggio anche tra Gorizia e Trieste da segnalare temperatura all'alba Bassine localmente sotto zero a Gorizia Trieste leggermente sopra però appunto comunque c'è bisogno di coprirsi massime invece accettabili per tutti i dettagli anche sulle giornate la prossima settimana scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo all'alba attrazione di Trebi di trebi di Trebi di trebi